Il Bimidale ha diramato una direttiva per cui tornano sulle carte di identità le diciture padre e madre e non più genitori. Un passo indietro secondo lei? In continuazione provano a riscrivere cose, a mettere in gioco tutto, del resto è il governo del cambiamento. Abbiamo una concezione della famiglia molto diversa da quella di questo governo. Ci sono i genitori, c'è la madre che è sempre certa, c'è il padre, ci sono le famiglie molto diverse da quelle monolitiche di Verona. Abbiamo una concezione molto più libertaria, molto più fondata sui diritti e sulle libertà civili. Non ci piace questa propaganda sui diritti che questo governo cerca di mettere in campo ogni giorno.